C'è circa 3.600 abitanti, 44.000 abitanti, quindi molto estesa per la maggior parte sono campagne e Fontana Vecchia è la dimostrazione che c'è molta culturazione di cultura di vite. Di fatto poi vedremo nel franzoio i vari procedimenti antichi rispetto a quelli a tutti. Per quanto riguarda il mondo a livello urbanistico partiamo da una zona più recente, poi a mano a mano che ci camminiamo verso il centro abbiamo dei palazzi sempre cantiti e di questo ci possiamo rendere conto anche leggendo un po' i portali, ad esempio qui leggo 1858, poi andando avanti... Ancora sotto questa bandiera? Come? Ancora sotto questa bandiera.